Ciao ragazzi, quest'oggi devo fare due precisazioni rispetto alla recensione della pedaliera ConSpeed CPP Lite di ieri che è uscito sul canale. La prima è che per quanto riguarda il force feedback haptico, le vibrazioni dietro i pedali ragazzi, ancora non sono funzionanti al 100%. Ci sono delle problematiche al quale ConSpeed sta lavorando duramente per risolverli e normalmente entro fine mese dovrebbe essere tutto sistemato. Voglio anche aggiungere che oltre al team di sviluppo e il team di beta tester sta collaborando Mirko De Santis per cercare di risolvere il problema. Quindi era una cosa che devo assolutamente sottolineare e evidenziare perché è giusto per una questione di trasparenza ragazzi. E inoltre vi ho parlato del fatto che ConSpeed ha annunciato tre giorni fa l'uscita di questa base di appoggio in alluminio ma è da precisare che non si sanno i tempi per quanto riguarda le disponibilità né i costi e che molto probabilmente sarà un accessorio da comprare a parte. Quindi era giusto dirlo. Ringrazio i ragazzi di Zeta per avermi dato queste ulteriori informazioni. Ringrazio a Mirko che si sta sacrificando per cercare di risolvere i problemi insieme alla ConSpeed. Vi ringrazio a voi per avermi seguito e per la pazienza. Noi come al solito ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto un abbraccio e vi ricordo che avete un codice sconto che vi farà risparmiare il costo di trasporto sul sito ufficiale di Zeta Sim Project. Vi ricordo che la pedaliera a due pedali costa 619€ e 729€ per quanto riguarda la tre pedali che non l'avevo detto nel video. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto un abbraccio. Ciao!